Questa è la mia vita Invece con le commedie ambientate in famiglia In particolare a Trumito Ho preso me e anche membri della mia famiglia Ho preso me e persone che non parlo C'è schicoloso Mi dicono questo anche a me Potrebbe incadere alla mia famiglia Sì, è che è dolce Non è in piscina, è andata male Ma poi con me è una spalla di tanta L'indicante preferite sono quelle in cui Su è super 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 felice per qualcosa Sul set sono famosa per avere l'entrata e l'uscita Che spalle divertenti Non è una stanza, sono super eccitata e poi è Sul set è perfetto di colori Su non ha una sua spalla Ha solo un angolo di entusiasmo Perché entra e riesce di corsa continuamente No, non c'è mai la stanza Ma sono questi punti da cui parte la stanza Restiamo sempre a Los Angeles Per incontrare un altro beniamino di Johnny Il fallibile consulente Interpretato da Simon Baker In da mentalista In onda con la quarta stagione inedita Ogni giovedì alle 21.15 In antiprima in esclusiva su Johnny Padre Jay, mi piacere tutto E' scondito che posso Indovinare qui Il secondo e il terzo cavallo Giva qualunque possa, signor Barnes E lei ne testimoni Prima di fare il mentalista L'attore australiano ha militato a lungo sul bilanio schermo Lo abbiamo visto nel Diavolo Vesteprata In 22 E nella terra dei morti Ma è Ray Confidencial Il film che per primo lo ha fatto conoscere il pubblico americano Non c'è solo il cinema però nella carriera di Simon Baker Dal 2001 al 2004 è Nick Follett in The Guardian In questa serie l'attore interpreta un favortoso avvocato Chi si trova a pagare i suoi errori Lavorando in una comunità Un personaggio con un passato da dimenticare Proprio come Patrick Jane Bravo Provocare una ragazzina in lutto Stimulato Non provocare Potrebbe essere il colpevole Potrebbe essere il diabolico assassino La carriera di Simon dunque procede a continuare E lo stesso si può dire della sua vita privata E' sposato con l'attrice e le meccaniche Da cui ha avuto tre figli Le loro madrine Naomi Watts E Nicole Kidman Grandi amiche della coppia A quando un loro cameo Intermentalist Rebecca va già fatto Eravamo sposati da questo obiettivo Dove ho capito Sì Ma Sì Ma Sì 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 Se Simon Baker Di The Mentalist E' un esempio di eleganza Non sono davvero gli avvocati Arby Stenter E Mike Ross E di Silvitz Il nuovo fiore all'oceno di giorni Non è in altri primari E' esclusiva Oggi E' un'occhio per i dettagli Dove stupisce che Arby Si è spazzito per te Sul sedio che lo vedi Tu sei Sei gentile Ma il cross Ha una memoria straordinaria